Io per esempio venivo a comprare delle cose per il giardino. Io mi ricordo San Giovanni Lupatato per via dei tortelli di Giovanni Frama. Io ogni tanto mangio due industrie. Ho scoperto che eravamo già stati qua due anni fa. Ah due anni fa. Ho parlato adesso con il corresponsabile del teatro che mi ricordava. Noi siamo arrivati due ore fa, ci siamo cambiati, abbiamo visto il teatro, l'abbiamo provato, adesso lavoriamo domani. Ieri eravamo da un'altra parte e via di seguito. Capita di dimenticarsi della situazione. Abbiamo fatto lo spettacolo sia a Roma che a Milano per due settimane in ciascun posto che è andato benissimo dappertutto. Quindi siamo contenti e soddisfatti. Bene, vuol dire che siamo attesi. Va bene. Fa piacere. Ciao a DJWebTB. Ciao. Ciao, ciao.